Bene, buona serata a tutte e a tutti, insieme stasera siamo qui per dire benvenuto e un grande benvenuto a Pepe Mugica, grazie di essere venuto, un grande benvenuto, una grande accoglienza che fa onore alla nostra città e io mi limito a dirvi che questa sera ci sarà una piccola discussione fra di noi ma soprattutto ascolteremo Mugica che ci intratterrà sul tema agricoltura sostenibile, saranno con lui Andres Danza ed Ernesto Tulboviz che con lui hanno curato questo libro che in tanti conoscerete e che vi invito a leggere, Una pecora nera al potere. Qui Mugica ci sono molte persone che vogliono essere pecore nere ma non trovano la possibilità di uscire dal greggio, io credo che insieme la troveremo soprattutto ascoltando la tua testimonianza. c'era un cantautore italiano che si chiamava Gaber che a un certo punto ci ha lasciato un bel testo in una canzone, non ho mai visto nessuno fare qualcosa e andare via, eccolo signori, Beppe Mugica. E adesso per dare Pepe alla serata il nostro Andrea Segre inizierà facendo una domanda piccante al nostro Pepe. Grazie sindaco, ma no sto seduto anche perché, caspita, mai, no non è vero, abbiamo visto tanta gente qui e io volevo fare un intervento, in realtà farò una domanda che parte dal titolo del libro, Pecora nera mi verrebbe da chiedere a Pepe sugli ovi caprini che ha visto qui a Fico, non è proprio il caso di fare questa domanda, ma abbiamo parlato di agricoltura sostenibile, ha visto il parco tematico, ha visto Fico, ha visto come abbiamo sviluppato le filiere, abbiamo parlato di educazione alimentare, di educazione ambientale, di consumi, di produzione sostenibile e abbiamo parlato di temi legati all'agricoltura italiana, a quella del suo paese, ai grandi come si dice player nel campo ambientale come gli Stati Uniti da una parte diremmo così negativa e dall'altra i consumi da parte della Cina. e quindi Pepe si è ritirato in una dei saluttini qui di Fico e ha elaborato un discorso e quindi più che una domanda è una breve introduzione e a lui la parola e lo ascoltiamo volentieri. Grazie Pepe, a te il microfono. Amigos, mi agradecimiento al cariño del pueblo italiano, in parte, è anche mio, per ragioni di sangue il secondo appellito è Cordano e in realtà qui c'è rostro di agricoltori perché c'è la nariz colorata e una mancha del sole e c'è rostro di studiante di ragazzi di ragazzi di ragazzi di ragazzi che venivano per una cosa e altri per un'altra per questo voglio parlare una parte e un'altra parte cari amici un saluto e grazie da parte mia e con grande affetto che saluto il popolo italiano un popolo che sento in parte anche mio per ragioni di sangue come dice il mio secondo cognome Cordano anch'io sono di origine italiana vedo tra i vostri visi molti visi segnati dall'agricoltura lo si capisce dalle macchie del sole ma anche molti visi di giovani di studenti alcuni sono venuti per una cosa altri per un'altra cosa in realtà come tutte le cose vivi ci siamo di alimentare e è una cosa curiosa oggi gli studi di antropologia dicono che il viello l'agricoltura e cazador comia molto meglio che il che vino dopo con la rivoluzione neolittica della agricoltura perché perché tenía una alimentazione variada, diversa e conoscía mucho el juego de las estaciones y de las posibilidades del territorio claro era poca gente in realtà come tutti gli esseri viventi anche noi uomini dobbiamo alimentarci è una cosa curiosa questa secondo i moderni studiosi di antropologia il vecchio homo sapiens che raccoglieva e cacciava mangiava molto meglio che l'uomo dello stadio seguente quello della rivoluzione del neolittico quando cominciò l'agricoltura perché il vecchio homo sapiens mangiava in maniera varia più diversa conosceva il gioco e l'alternarsi delle stagioni e le possibilità del terreno La comida no arregla en el corto plazo, pero la calidad de la comida se mide en el largo plazo e influye notoriamente, sabemos, hoy. E... E por qué digo estas cose? El hombre blanco cuando fue a África fue con el viejo arabo de volcadora de origen egipcio y pensó que el arabo de cuña, un palo, que tenían los africanos, era un atraso. Le ossa grandi che ritroviamo nei cimiteri inca ci stanno gridando oggi che gli antichi inca mangiavano molto meglio della maggior parte degli uomini attuali. E non c'è dubbio che in África, prima dell'arrivo dell'uomo bianco, si mangiasse meglio. Gli uomini africani erano probabilmente, dal punto di vista fisico, i più belli, guardiamo soltanto la statura. Oggi sappiamo che il mangiare non va valutato nel breve periodo, bensí nel lungo periodo. Quando l'uomo bianco colonizzò l'Africa con il vecchio aratro che portò dall'Egitto di origine egizia, pensó che i pali che si usavano in Africa fossero una cosa vecchia, antiquata, inutile. Lo certo è che oggi sappiamo che le nostre tierras tropicali quanto più le impostiamo a la oxidazione, a la temperatura media, più facile le impostiamo e le conduciamo al camino del deserto. e oggi sappiamo che il arabo meno agresivo è il verticale, il cincel, il che non dà vueltà, il che muove a basso. è il arabo più conservacionista si avviene il mismo principio. Perché dico questo? Perché una lei della agricoltura e della stabilità della comida del hombre è iniziare per entender che possono existire principi generali però cada l'uva tiene su requerimento e lo che è correcto in un l'uva non necessariamente è correcto in un altro l'uva e le vieze culturazioni locali hai che bucearli perché hanno una razón profonda. per esempio il tabù hindù con rispetto a la vaca è la cosa più intelligente che hai per sostener la vita di un un pobo perché perché quando le hambrunas golpeavano se avessero comito la vaca si quedavano senza il chorrito di leche che era la cotta di proteine animale a un pobo condenato a tener una comida vegetariana oggi sappiamo che le terre tropicali quanto più sono esposte all'ossidazione tanto più le condurremo alla desertificazione e oggi sappiamo anche che l'aratro meno aggressivo è quello che non rivolve il suolo completamente lo smuove da sotto e questo è simile a un principio dell'alimentazione una legge dell'agricoltura è quella che esistono sì principi generali ma ogni luogo ha le sue particolarità è importante preservare le vecchie culture locali perché hanno ragioni profonde prendiamo per esempio il vecchio tabù hindù delle vacche se fossero state mangiate nei momenti di carestia avrebbero tolto al popolo uno dei pochi modi di sostentarsi quello di usare il loro latte lo che voglio ricalcare lo grande akin cultura del mercado masificato e abbiamo il corpo delle grandi corporazioni che si muovono nel mondo, che tiendono a estandarizzare la forma di lavoro e tiendono a estandarizzare la forma di comida, ipotecando precisamente il valore che hanno la tradizione local e la formazione. Perché la questione della agricoltura e la questione della cucina e della comida sono la più forte expresione della cultura local di una nazione. La cultura comincia con i olori della comida della casa, e questo è che tenerelo ben chiaro con peine fino. All'arredor della messa familiar si costruisce l'asservo della cultura di un po' e anche la vita sta cambiando molto, conviene ricordare queste cose. Voglio rimarcare il valore della tradizione locale, che esiste ma spesso si perde il filo del suo perché. Questo a causa di una cultura mercificata e massificata, sempre più standardizzata a causa delle grandi compagnie e delle forme di lavoro e cibo sempre più uguali in tutto il mondo. Questo succede se si dimentica il valore della cucina e dell'agricoltura locale, che è la più forte espressione della cultura nazionale di un popolo. La cultura comincia con gli odori della cucina, si forma intorno al tavolo della cucina di casa. Per questo non va dimenticata. che non sappiamo che le persone non sappiamo che le persone non sappiamo. in pluma, che non sape che la lecce non sape dal supermercato. Es decir, la vita altamente urbanizzata e senza tempo tiende a simplificar la formazione emocional e intelectual della gente e tendemos a tener un desprecio o una non considerazione di una cosa tan fundamental e central para la vita che è tenere assegurata la comida e che sia comida che preserva e che aiude a defender la vita e la salute e non il negocio di un puñado di empresas transnacionali. E' questo lo che sta a cuore. Nei temi contemporanei la vita è sempre più rapida e il cibo è sempre più standard e i bambini non sanno che le galline hanno le piume o che il latte non esce dal supermercato. In una vita altamente urbanizzata, senza tempo, è sempre più basica la cultura della gente rispetto al cibo. Si perde una conoscenza fondamentale. Il cibo deve essere quindi qualcosa che preserva la vita e la salute, non gli affari di una serie di compagnie e imprese internazionali. E questo trae di la mano a un altro problema contemporaneo, molto forte. E è semplicemente che per il cammino di ignorare se termina despreciando. E non si può medire la importanza che ha qualcosa di un altro problema che si desprecia. Il lavoro di la terra e la produzione in generale di ogni altra giornata di un'imera attenzione di un'imera attenzione di un'imera attenzione che permette la moltiplicazione di un'imera tipo di un'imera in generale in realità per la costruzione di una situazione di un'imera di un'imera con i grandi rius e il hombre aprendo a manejar il agua, pudo multiplicarsi la productività della terra e con loro avevano forza politica, militare per costruire tremenda civilizzazione. Allì iniziò il Estado, in la Mesopotamia, allì iniziò il ejército professionale, allì iniziò per ragioni di contabilità, la scrittura. E questo è stato legato al aumento della productività della terra che permittò una specializzazione maggior di le persone. Non è poca cosa lo che ha significato questo nella storia dell'ombra e del suo progresso. Questo comporta un altro problema contemporaneo molto forte, il fatto che semplicemente per maggiore ignoranza si finisce per disprezzare una cosa come il lavoro della terra e in generale tutto ciò che è legato alla produzione agricola è stata la prima attività per la popolazione umana nel mondo, è stato ciò che ha reso possibile i passi più forti e fondamentali che hanno permesso di costruire la civiltà umana. Là dove c'erano i fiumi, dove c'era l'acqua, è stato possibile moltiplicare la produttività della terra e da ciò è stato possibile creare una forza politica, militare e la civiltà, come nel caso della Mesopotamia, dove nacquero lo Stato, l'esercito e la scrittura per ragioni di contabilità. Tutto questo è legato alla terra che permise la produttività e non è cosa da poco. Le voglio señalar che, così come le grandi corporazioni tiendono a estandarizzare i metodi, la formazione e a desarraigare, di fatto, non per mala fe, sino per negocio, le costumbi particolari in materia di alimentazione che c'è in cada rincone del planeta, perché non c'è un pollo che non ha una cosa hermosa con respecto a la alimentazione. Le mogolle che tenen che essere nomades, terminaron inventando un vino con la leche. Cioè, hai cose che non daria la noche per contare la storia di l'invento che ha fatto l'hombre sucessivamente. Per questo, esa frondosa e enorme cultura desparramata nel planeta, e che ancora una parte che è in posizione dei piccoli e mediano produttori hackeati, per tutti gli altri, per una economia cada vez più transnanzial, requiere una risposta, cuo primo calone è, in mia umile opinione, l'associazione del cooperativismo, per potersi difendere contro gli interessi di questo mondo. Oggi, a causa delle grandi compagnie internazionali che tendono a standardizzare sempre di più i metodi di produzione, vengono sradicate per affari quelle abitudini che sono diffuse in ogni angolo del pianeta. Tutti i popoli hanno sviluppato un proprio modo di coltivare e di produrre. Pensiamo ai mongoli, un popolo nomade, che produceva e produce il vino con latte. Per questo sarebbe fondamentale che questa cultura, di cui buona parte è già stata dispersa, venga conservata e una parte di questa cultura è ancora in mano ai piccoli e medi produttori saccheggiati dalle grandi compagnie. Abbiamo bisogno di una risposta a questo. perché? Perché è un mondo di dimensione e il piccolo e il piccolo e il piccolo produttore aislato solo, la possibilità che ha di che il tempo lo derrote o desarrolla i sui figli. anche il piccolo e il piccolo produttore e il piccolo produttore necessitano, nel mondo di oggi, tener un relativo esito economico per che soviva il esforzo di quello che ha. e questo richiede. E questo richiede. per la mentalità del piccolo e il piccolo produttore perché bisogna venire il nostro inevitabile individualismo. però non credo che esista un altro cammino che ci permette di avere una scala per affrontare i risposti della vita economica di oggi. la mia risposta a questo sta nell'associarsi nel formare una cooperativa nel cooperare perché in un mondo come quello di oggi il piccolo e medio produttore deve rispondere a delle esigenze esigenze di tempo per evitare che il suo figlio che la sua famiglia vengano sradicati dalla propria terra esigenze di guadagno economico che necessariamente sorgono per questo è necessario associarsi vincere l'individualismo è una sfida non facile ma ritengo che sia necessaria. La cooperazione inerente a che l'ombre è gregario è la clave di aver potuto creare civilizzazione. e credo che la defensa di questo settore oggi ma che nonca requiere spirito di associazione e manejo intelligente dei inevitabili conflitti che surgen quando distinti individualità se juntano. Lo contrario è abdicar ante il mondo transnanzale questo è lo che sta in gioco però juntamente con questo hai che ricordare che hai che lavorare molto duro nel campo della cultura non possiamo pensare che i integranti di una città sia produttori lo che possiamo pensare che sia meno bobo e quindi che si dà che la qualità della sua comida sta in cuidare una retaguardia di persone che lavorano in terra. La cooperazione è inerente al fatto che l'uomo è un essere gregario e questo essere gregario dell'uomo è stata la chiave della civilizzazione nel tempo. Per questo la chiave sta nella difesa del settore cooperativo, che richiede necessariamente anche una gestione intelligente dei conflitti che sempre sorgono quando gli uomini collaborano tra di loro. L'alternativa è abdicare al mondo internazionale. Bisogna però lavorare duro nel campo della cultura. Non possiamo chiedere ai cittadini che siano produttori, ma sì possiamo chiedere loro che siano meno stupidi. Devono rendersi conto che la qualità del cibo che mangiano sta in mano a quei piccoli produttori che guardano la qualità del cibo. Ora bene, devo tocare uno dei punti più duri, più difficili. La qualità del cibo che si usa molto è sostanzialale, sostanzialale, sostanzialale. Però risulta che il ser humano contemporaneo, al parecer, come va, ha decidito transformare questo mondo in un gigantesco sartè, per che non possiamo fruire tutto, o un gigantesco basurero, per che ci siamo immersi, la nostra pobra umanità, dentro della basura. Ora, tocca a uno dei punti più duri. C'è una parolina, oggi molto usata. Sostenibilità. Beh, risulta che l'uomo contemporaneo, apparentemente, ha deciso di trasformare il nostro mondo in una gigantesca padella dove tutti possiamo friggere, o in una gigantesca discarica dove possiamo morire sommersi dai rifiuti. E questo tocca molto a la gente joven. Perché dice lo del sartén? Perché il cambio climatico sta a la volta della esquina, è evidente. Perché hace 30 anni, gli uomini di ciencias in Kiotto ci hanno detto lo che iba a passare e anche ci hanno detto lo che aveva che fare per tratare di mitigarlo. e la humanità non lo ha fatto. E la humanità non lo ha fatto per impotenza politica dei governi più forti che ha il mondo. Perché questo non si salva a nessun paese. tutta la humanità ha di assumere determinata politica perché dello contrario questo si trasforma in un sartén para freirlo. Tutto questo tocca in special modo i giovani. Perché ho fatto l'esempio della padella? Perché il cambiamento climatico è dietro l'angolo. Trent'anni fa a Kiotto gli scienziati ci dissero cosa bisognava fare per mitigare il cambiamento climatico. Ebbene, non l'abbiamo fatto. Questo per impotenza politica. Nessun paese si salva. Nessun paese ha voluto adottare le misure necessarie. E' un qualcosa che dobbiamo fare a livello di umanità. Tutto il mondo insieme. Se è perfettamente che una politica sustentabile non è volvere all'agricoltura del mio abuelo sarebbe impossibile. Perché la quantità di terra che avrei che disponere con questa produttività è impossibile. Ma una agricoltura sustentabile significa che hai che investigare enormemente a favor di lo sustentabile e non del interese di compagnia transnacional. Questo è il asunto. Perché? Perché in la naturaleza hai herbicidas che non si chiamano glifosato o randall. Perché le planti compiten entre le perché eso non lo inventò il hombre lo ha creato la naturaleza però tenemos che escudriñar le secreti di la naturaleza conoscella per lavorare con ella e non contra ella. E' questa è la question. e questo questa è la question non è negocio per il mondo transnacional perché non è per generare produttori per vendere e non lo facciamo e non lo facciamo che non lo facciamo che che non lo facciamo che non lo facciamo però questo significa consumir meno insumos, meno agroquimico e precisamente, questo non interessa. Quiere dire che la investigazione è parte della politica. Se possono avere politica per una cosa o politica per la altra e in questo si è definito. Se vogliamo una agricoltura sustentabile abbiamo che accompagnarla di una forte investigazione che aiude a che sia possibile lo sustentabile. De lo contrario, stiamo mandando la gente a che pelee con un escarbadiente. So che le politiche sostenibili non vogliono dire tornare all'agricoltura dei miei nonni. Questo sarebbe impossibile. D'altronde, un'agricoltura sostenibile vuol dire una ricerca a favore della sostenibilità e no della competizione tra le varie compagnie dei mercati. Ci sono in natura erbicidi che non si chiamano glifosfato perché le piante competono naturalmente tra di loro. Noi dobbiamo scrutare i segreti della natura e carpirli. Dobbiamo lavorare con la natura, non contro la natura. Questo non è un affare, non dà rendite e guadagni. Non genera prodotti da vendere, ma è necessario. Dobbiamo sviluppare varietà resistenti, anche se questo vuol dire consumare meno prodotti chimici. La ricerca è necessariamente parte della politica. Dobbiamo prendere una posizione. Se vogliamo una ricerca a favore della possibilità, della sostenibilità è a quella ricerca sostenibile che dobbiamo dare ascolto, non alla ricerca che favorisce i mercati e le compagnie. Questo asunto di la investigazione, molto legato a lo local, implica che hai che fare esforzi che non si possono sostituire. Perché, se bien existen leggi generali, i aspetti locali sono determinanti. Voy a contar una piccola storia di mio paese. Mi paese è pura pradera. Tiene 3,5 milioni di abitanti e 13 milioni di vaca. È un paese che vende pasto trasformato. Il pasto è nostra materia prima, è fondamentale. Però hai pastos nativi e pastos che sono importati. Non abbiamo potuto fare una investigazione a fondo di i pastos nativi. Perché domesticare un pasto è lograre che semigli in un periodo corto che si possa cosecciare. E questo fa 15 o 20 anni. Questo tema ci porta a parlare necessariamente di ricerca legata agli aspetti locali. E questa ricerca implica sforzi da parte della popolazione locale che non sono sostituibili. Vi racconto una piccola storia che riguarda il mio paese, l'Uruguay. Il nostro paese è una pura prateria. Ci sono 3,5 milioni di abitanti e 13 milioni di mucche. Il nostro paese vende pascolo. Ma ci sono due tipi di pascolo che è la materia prima fondamentale. Un pascolo nativo, locale, e un pascolo importato. Ebbene, non è stato possibile fare ricerca sui pascoli locali perché ciò supporrebbe un impegno a lungo termine da parte dei produttori locali, 15-20 anni. E questo significa che utilizziamo pastos forani traiti da leggi per migliorare la composizione, a volte, di nostre pradere. Però viven poco, durano poco, perché i pastos locali compiten con ventaglia. E questo è stato caro. Se non facciamo la investigazione del nostro per eseguire le migliori specie e riproducirli, questo problema non si arregla né come un sato lavorando per noi da lì. Questo significa che dobbiamo utilizzare per forza in Uruguay i pascoli stranieri per migliorare le nostre procedure di agricoltura. E necessariamente questo dura poco a causa della grande competizione che si crea. E arriva a essere caro. Ma se non facciamo ricerca sulle nostre cose non potremo uscire vincitori da questo. Neanche se la Monsanto lavorasse per noi. Al revés, con l'arros creiamo due o tre tipi di varietà fissate nel nostro paese che sono un inesito formidabile e ora di contrabando si sembrano in tutto il sud del Brasile. Al contrario, per quanto riguarda il riso abbiamo sviluppato due o tre tipi, due o tre varietà fatte in Uruguay. Ebbene, hanno avuto un grandissimo successo e adesso si seminano di contrabbando in lungo e largo per tutto il Brasile. Per questo, la investigazione locale non ha sostituzione. E questo significa tener fuerza politica per l'argo. E questo è parte dell'esforzo sociale che hanno dovuto fare per un lato i produttori ma per l'altro lato la popolazione urbana che deve difendere le cose che hanno a vero con la sua comida. per questo è necessario fare ricerca sulla coltivazione locale che non ha sostituti. E' necessario fare uno sforzo anche politico a lungo termine ma anche uno sforzo sociale uno sforzo sociale che deve venire da un lato dai produttori e dall'altro dalle popolazioni locali. E da cosa che adquiere proiettata hacia il futuro una importanza decisiva nel destino delle generazioni che vengono. Europeo dì in conto che stanno al lato di una bomba demografica la gente che studia il desarrollo della popolazione humana dice che in meno di 100 anni la metà della popolazione del mondo è Africa. E' una bomba formidabile in materia di alimentazione. è che pensare i problemi del mondo che viene la economia crezò in l'ultimo 50 anni aproximadamente 50 veces in l'ultimo 50 anni tiene che crecer 200 veces siamo 7500 milioni arriba del planeta e saremo 9000 milioni molto antes che termine sigla queste cose ci proiettano verso il futuro e verso l'importanza decisiva che avranno nel destino delle generazioni future noi europei abbiamo di fianco una bomba demografica gli studiosi ci dicono che nel giro di cent'anni la metà della popolazione mondiale sarà salafricana una bomba formidabile anche in termini alimentari bisogna quindi pensare all'alimentazione del futuro la crescita economica negli ultimi 50 anni è stata di 50 volte ma nei prossimi 50 anni per sostenere il pianeta bisognerebbe che l'economia crescesse 200 volte adesso siamo 7 miliardi e mezzo ma prima della fine di questo secolo saremo 9 miliardi questo significa che i problemi del medio ambiente i problemi agricoli i problemi di alimentazione si van a multiplicare varias volte il mondo non è infinito e nostra civilizzazione in questa etapa della storia sta basata nel principio che che crecero constantemente Il paese cuo PBI non crece Parece che è una desgracia Però il mondo non crece Il mondo ha limiti Non si può dire al mondo Lo che non può dare Si non cuidiamo lo che existe Si nostra humanità non empieza a enfrentar un cambio civilizatorio Non hacia l'atraso Si hacia la inteligencia Lo che voglio dire è questo Cambiar los paràmetros industriali Concebir le cose Para que sean Sempre absolutamente reciclables Que sean bienes más durables Que non sia tanta cosa descartable inutilemente Que non se può despilfarrar tanta energia inutilemente Que tenemos que aprender a vivere con sobriedade Non con pobreza E che stiamo vivendo solamente Per il dio mercato Gastar e gastar E pagar cuenta E pagar cuenta Que la pagamos con parte del tempo In nostra vita Que in definitiva Il ser humano Tiene que alimentarse Todos tienen que alimentarse E cuidar la vida Pero también La vida Hay que tener El tiempo libre Para ejercer Lo que nos gusta La libertà Cultivar Nuestros afectos Que la vida De despilfarros Está agrediendo Al planeta Porque no es concebible Que tengamos que Que tener 3, 4 o 5 autos Por familia Que después Ni sabemos Donde lo vamos a guardar Que tengamos una escalera de pago Que vivimos enloquecido Tapado de cuenta Corriendo la felicidad Como el burro Que lleva una sanahoria adelante Il fatto che saremo presto 9 milioni Significa che dovremo Crescere 9 miliardi Significa che dovremo Crescere Nell'alimentazione Di almeno 3 volte Ma il mondo Non è infinito La nostra civiltà Al momento È basata Sul principio Di una crescita costante Il paese Lo stato In cui il pil Non cresce Fa gridare Alla disgrazia Ma il mondo Ha un limite Non si può Chiedere al mondo E al pianeta Quello che non può dare Bisogna cambiare La nostra civiltà La nostra civiltà E il nostro modo Di pensare Non è un passo Indietro Bisogna cambiare I parametri Pensiamo per esempio Alle cose Che potremmo Riciclare Ai beni Che potrebbero Essere durevoli Allo spreco Energetico E al vivere Con sobrietà Che non vuol dire Vivere con povertà Viviamo oggi Per il dio mercato Ci sforziamo Tutti i giorni Per pagare i conti Chiaro Tutti devono alimentarsi Ma tutti devono avere Anche tempo libero Per gli affetti Per la libertà E così lo spreco Finisce per aggredire Il pianeta Abbiamo spesso Anche tre Quattro Cinque auto Che non sappiamo Dove mettere Viviamo come impazziti Come un asino A cui mettono davanti Una carota Amigo Se non stovi hablando Per aggredire 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 Tremendo Io non parlo Perché voi siate d'accordo Ma parlo Perché pensiate Su questi temi Questo Non si può Questo tema Non si può Sistemare Semplicemente Con un applauso È necessario È necessario Un impegno A lottare Per la vita La mia generazione È cresciuta Nella paura Di una guerra nucleare La vostra generazione E le generazioni future Cresceranno Con la paura Di un olocausto Ecologico Perché si potrebbero Presto scatenare Delle condizioni Che non saremo Più in grado Di controllare Il mondo De la università Il mondo Joven Que por ser Joven È il mondo De la esperanza Tiene che Hacerse cargo Conocer A fondo Con la informazione De oggi La tragedia Que se sta incubando E plantarse Frente a la historia Perché Perché Sempre tendremo Lo que seamos Capaces De luchar Por eso De lo contrario La civilizzazione Contemporanea Tiene un poder Expansivo Tremendo Occidente Creò Una cultura Y un modo De vida Que ahora Está ambicionado Por todos Los pueblos De la tierra Pero Si 9 mil Millones Van a Vivir Como viven En los Norteamericanos Este mundo Explota Es imposible Es una mentira Es una mentira No hay Recursos Para todo Esto es una Hipócrita Mentira Podrò Podrò Anche la Norteamericanos Speranza Dovrò Farsi carico Questo sarebbe un'ipocrita bugia perché è una minoranza che può vivere in questo modo, mentre la maggioranza li guarderà come davanti a una vetrina e non starà con le mani in mano ma farà qualcosa e si creeranno assurde e inutili tensioni sociali. No, nostra civilizzazione è come se, in realtà, stuvi dicendo che per essere felice è che essere ricco, come se essere ricco è uguale a essere felice. Poco tiene che vero una cosa con la altra. Sabiamente la Biblia por ahí dice che il hombre felice non tenia camisa. Non si può prendere al piede la letra perché se no debia essere un hombre tropical. Però è una immagine di lo che vuole dire, con esa sabidurità antica. Guarda con confondire una cosa con la altra. Io non faccio apologia della pobresa, ma il che crea che l'unico cammino per essere felice arriva della terra e essere ricco è stato condenato. È come se la nostra civiltà dicesse che per essere felici è necessario essere ricchi. In realtà le due cose hanno ben poco da spartire. Nella Bibbia, anticamente, si diceva che l'uomo felice è quello che non ha camicia. Ovviamente non possiamo prendere la cosa alla lettera, se no saremmo tutti uomini tropicali. Ma possiamo ascoltare questa immagine di antica sapienza. Io non faccio un'apologia della povertà, ma dico che l'uomo che ha bisogno di essere ricco per essere felice è un uomo condannato. E allora mi sembra che è lo sostenibile, la forma di vivere. La felicità è un uomo condannato. Non può essere felice, di essere felice. E poi non può essere felice. Il che ha tre lavori e non canta con uno, ha multiplico i gli gasti, non ha tempo per dormire e dice, non voglio che a mio figlio le falte nulla, però le falta a lui, perché non ha tempo per dedicare a sus figli. guarda la alienazione del lavoro anche ci sono che ci sono l'intraverso l'intraverso che è tempo per gli affetti di questa terra tu ti vas a andare e ti vas a andare come veniste desnudo lo único che ti può quedar sono gli affetti che cultivati lo afecto non sono mercaderia è tenere tempo per gli amici per la famiglia e per gli affetti che ti piace che ci si chiama la libertà mentre siamo sometiti alla lei della necessità se deixiamo che le necessità se multipliquen al infinito e abbiamo che andare e che ci sono stai che ci sono attraverso la chauzza e non ci sono il tempo inventando una e inventando la altra e eccetera No vamos a dar cuenta Que quando compramos Non compramos con plata Sino che compramos con il tempo De nostra vita che gastiamo Per avere esa plata Però Però non c'è nessun supermercato Que te venda a vita E questo è il valore più grande Il milagro di stare vivo Però hai di sapere che la vita se ti va E che hai la necessità biologica Di vivere E vivere è avere afecti Non essere una pietra E questo è un tempo E più chiaro Come diciano i griegos Nada è in demasia Lavorare hai che lavorare Il che non trabaja vive a costilla L'alguno che trabaja Però la vita non è solo Trabajare Quindi mi pare che dobbiamo ripensare Il nostro modo di vivere Lottare per la felicità E la felicità è qualcosa Che non si dà per decreto E' chiaro che se uno ha fame O se gli piove in casa Non può essere felice Lo so Ma non può neanche essere felice Chi deve fare tre lavori per vivere Perché non gliene basta uno Chi non ha tempo per i figli Chi è alienato dal lavoro Che gli toglie tempo agli affetti Magari lavora Per dire A mio figlio Non voglio che manchi niente E poi gli manca Il padre o la madre Ce ne andremo nudi Da questa terra Come nudi siamo venuti Rimarranno solo gli affetti E gli affetti Non sono qualcosa Che si possa mercificare La famiglia Gli amici Il tempo libero Da dedicare a qualche hobby Questa è la nostra libertà Se continuamente noi paghiamo I nostri conti Non abbiamo tempo Per altra cosa Ma la vita Non è qualcosa Che si può comprare Al supermercato E il miracolo della vita È qualcosa Che se ne va Senza che noi Ce ne rendiamo conto La vita è necessaria O viverla Dedicare tempo a questo Agli affetti E per questo Ci vuole tempo Perché Hai una cosa Che si chiama libertà Che in generale Non la definiamo Io sono libero quando il tempo di mia vita lo posso gastare in qualcosa che mi piace, che mi motiva e non sto perjudicando a altro. Per a Juan può essere pescare, anche se colando acqua, per a Pedro può essere acostarsi sotto un arbore e mirare il cielo, e per a otro Juan può essere jugar a la carta con un amico. La libertà è cesso, quando tengo che cumplire un horario di lavoro per cubrire le mie necessità, allì sto sometito alla obligazione della lucha per la vita, tengo che cumplire una disciplina. E tutti uomini e tutti uomini devono fare un apporto di lavoro in la società in cui vivono, perché di lo contrario stanno vivendo come il clave del l'aria. No, è molto lo che riceviamo di la società, abbiamo che apportare la nostra corte. Però, ojo, tutto ha un limite, come il diosso attuale è il mercato, se tu non ti hai chiar queste cose in la cabeça, non ti preoccupi, il mercato ti va a organizare la vita. E ti va a tener tutta la vita pagando cuota, una tras di la otra, hasta che ti vai. Io non le posso prometere il sogno come quando siamo ragazzi, una società migliore, una società migliore, che va a essere perfetta, e che va a tocare il cielo con la mano. La società è lo che è, e il mondo migliorerà o no. Però tu puedes defender la independenza di tua vita, se culturalmente non ti deixas entrampare e llevar come un bobo di la nariz, per una civilizzazione di marketing, che tutte le mani, quando sei viello, ti presenta una bicicletta ergométrica, che ti va a mejorar la estatura, ti va a sacar la barriga, tutto. E a ti, e a ti, e a ti, mujer, che empiezas a envejecer, ti va a arreglar la sarrua con una cremita, e questo e l'altro, toda mentira, per sacarno la lana del bolsillo. La libertà è qualcosa che non possiamo definire facilmente. Io sono libero quando posso dedicare il mio tempo a qualcosa che mi piace, sempre senza danneggiare gli altri. Per uno può essere pescare, per quanto sia solo scolando l'acqua. Per un altro sdraiarsi sotto un albero e guardare il cielo. Per un altro ancora giocare a carte. Ma quando c'è un orario di lavoro a cui sottomettersi per necessità, allora diventa solo una disciplina, una lotta per la vita. È chiaro, tutti gli uomini e le donne devono contribuire. Non è possibile pensare di vivere senza lavorare. Riceviamo molto e molto dobbiamo contribuire. Ma dobbiamo avere ben presente in mente che il Dio mercato organizza la nostra vita. E se non ce l'abbiamo ben presente lo farà al posto nostro e continueremo a pagare i nostri conti finché un giorno ce ne andremo. Io non vi prometto una società perfetta. Ma voi potete difendere la vostra indipendenza, l'indipendenza di decidere nella vostra vita. Non bisogna lasciarsi prendere per il naso dal marketing. Quella bicicletta magica o quella crema che ci farà scomparire le rughe. Tutte invenzioni per toglierci denaro dalle tasche. . In definitiva, queridos amigos, se che nel corto plazzo e in lo immediato hai che luchar per una agricoltura sustentabile che garantisse la miglior comida possibile e lo ma integrata a nostro paese. ma la salute del mondo, la salute del acqua, della terra, la stabilità della convivencia non depende di tutti i agricoltori, per buoni che siano, ma depende di cambiamenti importanti in la struttura di nostra cultura e di nostra civilizzazione. Abbiamo arrivato a un livello di sviluppo in la humanità che non c'è l'hombre aveva tanto recursos e tanta posibilità, ma anche come tantissime cose, non c'è l'hombre non c'è l'hombre non c'è l'hombre non c'è l'hombre con respecto a si stesso, perché è capace di desbalanceare tutte le leggi che manejano la vita del pianeta. In definitiva, amici, so che a corto termine dobbiamo lottare per un'agricoltura sostenibile che possa garantire la migliore delle alimentazioni possibili ai nostri popoli, ma la salute nel mondo risiede nell'acqua, nella terra. Non dipende dagli agricoltori, ma dalla capacità di adottare cambiamenti importanti nella nostra civiltà. Mai come adesso abbiamo tante cose, tanta tecnologia, eppure mai come adesso siamo stati così pericolosi, perché capaci di scatenare cose di forza incredibile che non possiamo contrastare. A presto, finalmente, a los giovani, les pido, por aver sido giovani, alguna vez, e aver gastato, en sueños rotos, la parte más larga de mi vida, il hombre apprende più del dolore che della buonanza, sempre e quando il dolore non lo destruirà. Les pido che tenen una causa per vivere. Vivere è il milagro più grande che esiste per ogni uno di noi. Vosotros, hazte esta pregunta, por qué naciste tú? Había 40 millones de probabilidades que naciera otro y te tocó a ti vivir. Chiedo ai giovani questo. Io che sono stato giovane una volta e ho speso gran parte della mia vita lottando. Si impara più dal dolore che dalle vittorie e dai guadagni. Vivere è il più grande miracolo che ci sia. Fatevi questa domanda. Perché siete nati voi quando c'era una probabilità su 40 milioni che fosse così? Eso quiere decir che la vida è milagrosa e è la ricchezza che tiene cada uno di noi più importante. Però se non va. Ora viene lecciugas, los escarabajos, las hormigas, anche nascono perché nascono. La differenza è che gli umani fino a un certo punto abbiamo quello che si chiama concienza che può incidire, darle rumbo a nostra vita. a un certo punto a un certo punto che si chiama concienza. del planeta per il destino di questa nave in cui andiamo dando volta nel universo tratando di amparare in lo possibile la vita di questi che vengano dopo di noi e se è il canto il grazie a la vita che possiamo dare la causa più superior che possiamo avere per dare un destino a nostra vita piensen in queste cose di l'envolta non se dejen entrampare per il egoismo non cultiven il odio cultiven il amor e la esperanza hacia il porvenire e sepan che triunfare in la vita non è arrivare a un lato triunfare in la vita è levantarsi e voler a empezar cada vez che uno cae perché la causa non ha fin la causa è andare con destino in la propria vita che ci si toccò come regalo grazie grazie la vita è qualcosa di miracoloso c'è una grande ricchezza in ciascuno di noi ma come nascono anche l'insalata gli scarafaggi e le formiche c'è una differenza fondamentale che ci distingue che noi abbiamo una coscienza per decidere la rotta della nostra vita noi possiamo decidere la causa per la quale viviamo non vivere solamente per il fatto di essere nati noi voi dobbiamo quindi lottare per la sopravvivenza di questo pianeta di questa nave in cui siamo tutti e lottare per difendere l'avvenire delle generazioni future è questo il canto il grazie alla vita la causa suprema che possiamo dare nella nostra vita pensateci non coltivate l'egoismo e l'odio coltivate l'amore e la speranza nell'avvenire e ricordatevi che nella vita non è importante arrivare da qualche parte ma rialzarsi quando si cade ogni volta che si cade e la vera causa il vero fine di questa vita è continuare a camminare andare avanti in questa vita che ci è toccata come regalo grazie 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 presidente è difficile poterti donare qualcosa noi ci abbiamo pensato molto tutti i ragazzi qui presenti oggi hanno detto come facciamo a darti qualcosa che è la nostra Italia che è la nostra Bologna che è Fico allora abbiamo preso dei semi il grano duro e il grano tenero grano duro e grano tenero che noi abbiamo e coltiviamo in Italia che ogni giorno usiamo qui a Fico per fare il pane e la pasta il grano tenero è un grano antico coltivato sulla penino bolognese è un recupero e con questi semi ti abbraccio a nome di tutti grazie di essere qui io ti voglio abbraccio amici io sono un viello tengo 83 anni però mi fanno molto contento quando posso subire il Massi Ferguson e andare in la terra miro il color e la terra tutto mi affetto mi affetto e e e e me siento hermano de todos los campesinos del mundo grazie grazie allora adesso è possibile per chi ha un libro di Mojica da far firmare in ordine uno per volta salendo da quella parte del palco dove sono i gradini mettersi in fila per il firmacopie chi non ha il libro e volesse acquistarlo trova il banchetto delle librerie che è esattamente attaccato a questa uscita centrale grazie